Anticipazioni e un posto al sole, trama puntate dal 14 al 18 novembre 2016 Lunedì 14 novembre 2016 Nella puntata di oggi vedremo che Renato sarà spinto da Raffaele a rivedere il suo rapporto con Nadia. La donna infatti non ha molto gradito al comportamento dell'uomo, che l'aveva trascurata senza evitarla alla festa di laurea di Nico. Intanto Filippo, mentre si trova al parco, incontra per caso Gigi. Marina è sempre più divisa tra Matteo e Roberto. La Giordano infatti vuole disperatamente e arduamente aiutare Matteo, ma sa che l'imprenditore non la prenderebbe molto bene e si sente ostacolata. Martedì 15 novembre 2016 Nella puntata di oggi vedremo che, dopo l'aspero confronto con Serena e dopo aver incrociato Filippo, il noto attore Gigi Del Colle, che è il vero padre di Serena, inizia ad avere dei ripensamenti sul suo comportamento e capisce di aver sbagliato. Cerca quindi un confronto con la ragazza. Intanto Nunzio inizia a capire di provare dei sentimenti importanti nei confronti di Giada, ma il suo comportamento strano non è particolarmente gradito a Franco, il quale si convince che il ragazzo nasconda qualcosa. Tutto questo, mentre tra Chiara e Scheggia cresce la tensione. La ragazza si sarà forse pentita della sua scelta? Mercoledì 16 novembre 2016 Renato fa una proposta a Nadia, di quelle che nessuno si sarebbe mai aspettato. Come reagirà la donna? Intanto Franco è sempre più sicuro che Nunzio li stia nascondendo qualcosa e inizia tra loro un confronto molto acceso. Ciò spinge il ragazzo a prendere una decisione importante. Lascerà la terrazza? Ma dove andrà? Giovedì 17 novembre 2016 La puntata di Oggi di Un posto al sole vede una Giada piuttosto confusa di fronte alle richieste di Nunzio, il quale, dopo aver lasciato la terrazza, le ha chiesto di poter vivere da lei. Nel frattempo, mentre Nico è in difficoltà perché non riesce a gestire le difficili situazioni al lavoro presso lo studio legale, Michele dovrà prendere una decisione. Dovrà stabilire infatti se inviare oppure no il romanzo alle case editrici, sotto suggerimento di Silvia. Venerdì 18 novembre 2016 Beatrice si mette in mezzo tra Nico e Susanna, ma il ragazzo non crede alle sue parole. Nel frattempo vedremo che Roberto vorrebbe ottenere da Marina un allontanamento da Matteo, ma la donna non vuole esaudire questo desiderio perché si sente legata all'uomo e lo vorrebbe aiutare. Pertanto, sotto le continue richieste e pressioni di Roberto, la Giordano lo minaccia di andarsene da Palazzo Paladini, se continuerà ad ostacolarla. Nunzio dice tutta la verità a Giada sui soldi ricevuti dal nonno. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio